Ringrazio Paolo Delle Piane e Settimana Sport per il premio che mi hanno dato e per l'almanacco che ho acquistato. Ringrazio anche il Via dell'Acciaio per questa bellissima stagione e visto che approdo in promozione, auguro una stagione a loro e ai miei ex compagni piena di successi. Quanti gol hai fatto Luca quest'anno? 25 gol. C'è stato il gol più bello? Te lo ricordi? Il gol più bello contro la Calvarese fuori casa, saltando due attraversari più il portiere e poi appoggiandola in posto. Il gol più facile? Il gol più facile, ne ho fatti tanti sulla linea di porta. Il gol più brutto? Il gol più brutto, un rimpallo sullo stinco a un centimetro dalla porta. Il gol più importante invece della stagione? Il gol più importante? Ci dovrei pensare, non mi viene in mente, ma penso contro il Prato l'1-0 che ci ha permesso di risalire dopo un momento non ottimale. Il gol più bello della tua carriera? Il gol più bello della mia carriera? Potrei dire quello anche contro la Calvarese. Chiudiamo con una pillola di mercato, andrai a giocare in promozione, non diciamo ancora dove. Non diciamo ancora dove, ma una bella sfida che mi permetterà magari di riaffrontare una categoria sicuramente più impegnativa e di rimettermi in gioco, diciamo.